Risveglio turbolento per tutti gli appassionati di Formula 1 perché è tornato il GP del Giappone dopo due anni, causa pandemia e ci ha regalato una gara spettacolare quanto molto discussa. Condizioni al limite, una gara sospesa, un titolo del mondo assegnato in realtà postumo per una penalizzazione e una gara alla fine dominata da chi effettivamente ha meritato di vincere. Tappa e titolo del mondo per il Racing Podcast di Capremo di Suzuka che veramente ha fatto prolungare non molto l'attesa per il verdetto finale che va detto in realtà ha sorpreso molti perché nessuno, ne ha compreso, ci aspettava che viste le condizioni Verstappen potesse vincere il titolo del mondo ma alla fine causa una penalizzazione parecchio discussa ma da più del regolamento in realtà non così scontata e sbagliata. Evidentemente ha dato l'adito al titolo del mondo di Verstappen di essere celebrato in casa della Honda con la Red Bull appunto motorizzata dalla casa giapponese. La partiamo come al solito dall'inizio dopo una qualificazione sul bagnato arriva la partenza e la partenza è in queste condizioni, una condizione veramente al limite, una gara che dal mio punto di vista non doveva neanche partire. Era giusto secondo me fare come effettivamente è stato fatto a Singapore ovvero sospenderla inizialmente per poi aspettare che la pista si asciugasse per poi avere una gara completa fin dall'inizio. E già qui abbiamo capito che la federazione internazionale ancora una volta si è resa protagonista, se lo ha fatto a Singapore con la penalizzazione di Perez data molte ore dopo, già qui c'è un primo segno che anche in questa gara qualcosa dall'alto non va. Il fatto che effettivamente la condizione della pista non era propriamente l'ideale lo si vede appunto già da subito perché non solo, come si vede da questa immagine, le vetture sono levantatele e tanta acqua che è difficilissimo vedere già cosa succede in pista. Ma appunto per queste condizioni succede la qualunque, Gasly prende un cartone pubblicitario, Guadagio si gira, Sebastian Vettel viene buttato fuori alla prima curva da Fernando Alonso, il culmine di questo primo giro macello è l'incidente a Carlos Sainz che perde da solo la macchina prima di entrare alla curva del cucchiaio e appunto sbatte contro le protezioni distruggendola la posteriore e di fatto abdicando alla gara. Gara che dopo questo macello, queste catombe di vetture, di fatto abbiamo avuto due ritiri, quelli di Guadagio Joe se non sbaglio e ovviamente Carlos Sainz in realtà era Alexander Albon, Guadagio Joe si gira per Gasly e Vettel, finiscono anche loro per Prati, insomma gara sospesa e si attende un paio d'ore. Un paio d'ore dopo in realtà la situazione non è che cambi perché come vediamo da queste immagini è vero che la pista non drena molto ma è tanto vero che non piove praticamente più, rimane comunque una condizione da gomma e da bagnato estremo che poi vanno tramutate in intermedi. Va avanti la gara nel frattempo con un Verstappen che appunto domine lungo e largo senza se e senza ma vincendo di fatto meritatamente anche la gara, la cosa che in realtà lascia molto perplessi è quello che è successo all'ultimo giro, lotta intestina tra Leclerc e Sergio Perez, Leclerc perde la macchina, va lungo alla chicane del triangolo, di fatto l'ultima curva all'ultimo giro e appunto per aver tratto vantaggio rispetto a Sergio Perez, anche se in realtà non è propriamente così, insomma viene penalizzato i 5 secondi praticamente per aver tagliato la chicane, è vero che le gomme di Leclerc erano effettivamente consumate ma quello è un altro discorso, la penalizzazione in questo caso arriva immediatamente e ufficialmente Max Verstappen vince il titolo del mondo 2022 vissando il successo dell'anno scorso con anche la vittoria di gara per un trionfo dal punto di vista della onda perché con la penalizzazione di Leclerc, Leclerc appunto scala terzo e secondo è quel Sergio Perez che è tentato in vano di evidentemente superare il pilota Monegasco, è un titolo del mondo va detto che è arrivato su Biudice, mi verrebbe da dire con la federazione che ha effettivamente anche una volta fatto la protagonista, ciò non toglie però che Verstappen ha ampiamente meritato il titolo del mondo. Quello che ovviamente è molto da discutere sono due cose in questa gara del Giappone, la prima è la seduzione dei punti perché sappiamo che la gara non è stata fatta in modo completo, la seconda è la penalizzazione a Leclerc che in realtà per aver tagliato abbiamo visto nel corso dell'anno penalizzazione di 5 secondi ma appunto effettivamente per come è maturata c'erano delle labilissime chance di tenere acceso il titolo del mondo per quanto in realtà cambiava poco. Verstappen avrebbe vinto clamorosamente a Austin Texas invece lo vince direttamente in quel di Suzuka con 366 punti in totale, sono 253 quelli di Perez, 252 quelli di Leclerc. Per avere la matematica certezza del titolo del mondo bisognava avere i 100 punti di vantaggio per quanto riguarda i 25 punti per le 4 gare che rimanevano, aggiungere anche i punti della gara sprint che sono 8 più i 4 punti del giro veloce, fanno 112 punti. Ovviamente qui la differenza è 114, di conseguenza Verstappen anche matematicamente vince il secondo titolo del mondo consecutivo. Torno a ripetere, l'unica cosa che mi lascia sconcertato e molto perplesso non è la penalizzazione in sé a Leclerc perché ripeto il titolo del mondo per Verstappen l'ha preferito comunque la gara dopo, quindi quelli che si indignano perché la federazione e la federazione alle Clerc francamente lasciano molto tempo che trovano. La cosa che diciamo lascia molto perplessa è la selezione dei punti perché sappiamo perfettamente che per regolamento i punti completi devono essere assegnati al 75% della gara completa, cosa che non è stata fatta in questo contesto perché la dinamica è stata questa, due giri completi, safety car appunto per un giro, bandiera rossa al giro numero 3 e poi ripartenza, ma la ripartenza è avvenuta a tempo, tanto è vero che la gara si è svolta in tre quarti d'ora letteralmente e di fatto parliamo di 28 giri. Ora, su una gara che inizialmente ne prevedeva praticamente 61, 28 giri non mi sembra il 100%. È vero che dovevamo arrivare al limite massimo delle 4 ore e quindi si è dovuto esaurire il programma con il tempo, ma appunto la regola dice che i punti vanno assegnati in base ai giri percorsi durante la gara e se venivano assegnati 28 giri, come quello che è successo in quel di Suzuka, i punti 7 dovrebbero essere proporzionati ai giri fatti. Banalmente Verstappen è venuto a prendere 19 punti e non 25. Ripeto, non cambia nulla da tutta la dinamica generale perché Verstappen l'avrebbe vinto a host in tutto il mondo. Certo che per gli sponsor e per, diciamo, i tifosi giapponesi vedere due Honda motorizzate ovviamente che fanno doppietta con il pilota di punta e il titolo del mondo è veramente l'apoteosi. Quella è la cosa che mi dà più fastidio, la federazione anche una volta si è resa protagonista, diciamo, in qualche modo. Al netto che, ripeto, non si può contestare uno come Max Verstappen perché è uno che vince di fatto 12 gare su 18 previste, due le vince il suo compagno di squadra, le altre le vincono, Leclerc e Sainz. Va detto che effettivamente è un mondiale ipermeritato, senza se e senza ma. E sulla pista la gara di Suzuka è evidentemente l'emblema di questo titolo del mondo perché ricordiamo che Verstappen ha vinto con 30 secondi di vantaggio su Leclerc che è arrivato a gomme finite, praticamente sui cerchioni, e non poteva fare nulla. Quindi quelli che contestano Verstappen, che gli ha regalato due mondiali di fila, anche lì lasciano molto il tempo che trovano. Verstappen ha vinto due titoli del mondo, questo in modo molto evidente, quello del 2021 in modo molto spettacolare ma molto discusso. Ripeto, quest'anno però la Red Bull ha avuto un vantaggio che la Ferrari non ha avuto, ovvero quello di lavorare sugli errori. La Red Bull aveva 41 punti di distacco rispetto alla Ferrari nel mondiale piloti, con Verstappen, con Leclerc, che dopo la quarta gara, terza gara, sembrava lanciato verso il titolo del mondo senza se e senza ma, e invece la Red Bull ha lavorato sugli errori, la Ferrari invece è rimasta ferma all'Australia, ha sbagliato errori di strategia, ha sbagliato con errori dei piloti, anche Leclerc non è esente da colpe, e quindi tutto grasso che cola per Max Verstappen, che appunto vince meritatamente il titolo del mondo 2022, secondo di fila per il pilota olandese. Nulla possa nei suoi diretti avversari, perché Charles Leclerc, è vero, ha vinto tre gare quest'anno, ma ripeto, i punti potevano essere molti di più. Leclerc può rimpiangere tantissimo questo mondiale, che era partito nel migliore dei modi, e invece poi nella parte intera di stagione soprattutto ha mancato clamorosamente, per un pilota che come talento se la gioca tranquillamente, con questo Verstappen è veramente una nota dolente. Ha fatto paradossalmente meglio Sergio Perez, storico secondo pilota per Antonomasia, era disegnato a fare il secondo pilota in Red Bull, eppure è un secondo pilota che porta punti, un secondo pilota velocissimo che garantisce doppiette e podi a ripetizione, cosa che invece in Ferrari non c'è. In Ferrari ci sono due buonissimi piloti che per una valla o per l'altra, o si scannano tra di loro, o sono vittime di una verità della Ferrari, oppure hanno una macchina non competitiva. La Red Bull sfrutta il fatto di avere una macchina ipercompetitiva, e dunque è importante celebrare chi ha vinto, e gli altri che hanno perso devono ovviamente farsi molte riflessioni, anche in vista dell'anno prossimo. Leclerc per quanto riguarda invece la penalità, in realtà non è che potesse fare molto, perché abbiamo visto che la dinamica è stata quella di una frenata con gomme praticamente finite all'ultimo giro, tecnicamente abbiamo visto penalizzazioni date, anche per molto meno, con sezioni molto simili. Tagliare la chicana, va detto, non si dovrebbe fare e non si fa, quindi la penalità dal punto di vista teorico avrebbe anche senso. Ripeto, non è la penalità che mi scandalizza, perché il titolo del mondo era bel che è chiuso da praticamente sei gare, in realtà matematicamente no, ma ci siamo capiti, è altrettanto vero però che una gara fatta su 45 minuti più un giro non può dare secondo me punti completi. Questo è una nota dolente che insomma va ad aggiungersi a quelle che ha fatto anche quest'anno la federazione, e sono tante, abbiamo visto nel corso degli anni, l'ultima, quella di Singapore, con la penalizzazione data praticamente tre ve dopo a podio già completato. Fatto sta che Suzuka, complice al bagnato, complice a tutte queste condizioni, ha regalato risultati interessanti, a partire dalla quarta posizione, quella di Estebon Ocon, lo dico subito, il francese secondo me oggi è il driver del giorno, perché è vero che Verstappen ha fatto una gara clamorosa, dominando, vincendo, con piste di vantaggio sugli altri, ma è da tanto vero che Estebon Ocon, con un Alpine che ha avuto una buonissima configurazione su questa pista, su due che sul bagnato, ha fatto una straordinaria gara, ha difeso tutta la gara, rispetto a Hamilton che sul bagnato di solito è un mostro, ma è evidente come la Mercedes sia involuta e è ovvio che la squadra argentea, diciamo così, è la delusione di questa gara di Suzuka, perché sono due macchine con due piloti molto forti sul bagnato, eppure né Hamilton né Russell hanno fatto molto bene. Ocon, gli abbattuti, meritatamente, peraltro complimenti al Alpine che sull'allungo rispetto alla Mercedes sembrava nettamente superiore, comunque c'è il buonissimo setup. Quinto Lewis Hamilton, che per me è una delusione, Hamilton sul bagnato in queste condizioni, me lo aspetto sempre a podio, sappiamo che Hamilton è un mostro sotto l'acqua, anche con macchine inferiori come questa Mercedes, non riuscire a passare all'Alpine, secondo me è una nota di demerito al pluricampione del mondo inglese, che comunque porta a casa dei punti interessanti. Sesto, Sebastian Vettel, che nella sua ultima gara a Suzuka compie una clamorosa gara, azzecca la strategia per una volta, è uno dei primi, insieme a Nicolas Latif, a cambiare da gomme da bagnato estremo, a gomme intermedie, alla fine rimonta e finisce sesto, grandiosa prova in questo caso del pilota tedesco. Settimo è Fernando Alonso, che comunque a differenza di Vettel, non si ridira, ricordiamo, e correrà per altri due anni, proprio al posto di Vettel ha Aston Martin, solo che Vettel ha 36 anni, mentre Alonso ne ha 41, per una volta abbattuto dal suo compagno di quadra Esteban Ocon. Ottavo è George Russell, altra delusione di questa gara, per i motivi di cui sopra con la seconda Mercedes. Nono, signore attenzione, Nicolas Latifi, che torna a riprendersi l'ultimo posto in classifica generale, su 20 piloti, Latifi era riuscito, prima di questa gara, nel fausto record, di finire 21esimo, in una classifica di 20 piloti regolari, complice, la grandiosa gara di Nick DeVries, appunto, in quel di Monza, a proposito, Nick DeVries l'anno prossimo, lo vedremo in Formula 1, ma non in Williams, ma sì in Alfa Tauri, Latifi, insieme a Sebastiano Fettio, fa una grande gara, per una volta, e quindi, non ha posizione, primi due punti in stagione, per il canadese, che lascerà la Formula 1 a termini di questa stagione. Chiude invece la zona punti, per quanto riguarda la gara di Suzuka, Lando Norris, con una McLaren, che veramente dovrebbe dimenticare questa di sua stagione 2022, e proiettarsi direttamente all'anno prossimo, soltanto un podio quest'anno, a Imola, peraltro io c'ero, ma Lando Norris, ripeto, l'ombra di se stesso, con una McLaren, veramente a sua volta, altrettanto l'ombra di se stessa. Mondiale dunque, che si chiude definitivamente, con quattro gare di anticipo, mondiale dominato da Max Verstappen, ripeto, Verstappen ha vinto, meritatamente, e la benedizione alle Clerc, non ufficia minimamente, giudizio di quest'anno su Verstappen, ripeto, può ufficiare sulle cappellate che ha fatto la FIA, e che farà la FIA, perché ovviamente non è nuova questo tipo di errori, fatto sta che adesso le quattro gare che mancano alla fine, ovvero Austin, Messico, Brasile, e Abu Dhabi, saranno di fatto per onor di firma, per vedere le singole tappe, le singole gare, di conseguenza sarà importante vedere, ci saranno delle gare molto belle da vedere, e nel caso ci saranno i racing podcast dedicati, di conseguenza lasciamo spazio anche ad altre categorie motoristiche, e lasciamo spazio anche evidentemente agli altri sport, in particolare il meraviglioso gioco del baseball, sappiamo che siamo entrati a ottobre, sono giocati due video sul Playoff MLB, e il prossimo appuntamento sul canale sportivo sarà il commento al primo turno dei playoff del meraviglioso gioco del baseball, in uscita tra lunedì sera e martedì pomeriggio. Il saluto da parte di Matthew Torgard, ci vediamo al prossimo video.